Carissimi amici sono PanieloTube e oggi sono qui con un gioco fatto da un iscritto, da BurritoTube Il gioco si chiama World Pain capitolo 2, è stato fatto su Structed che è una piattaforma per creare giochi E niente in questo gioco penso che andremo a caccia di zombie, andremo a fare tante cose belle Ma prima di cominciare mi raccomando lasciate qui sotto tantissimi like, condividete il video Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Se volete essere risalutati qui sotto nei commenti basta che me lo chiedete Io vi rispondo direttamente nel commento con tanti cari saluti Insomma vi saluto proprio nel commento Oppure se volete farmi qualche domanda io comunque cercherò di rispondere alla maggior parte di tutti i commenti Ma ora direi di partire direi di cominciare mamma mia oggi proprio video extra Chi si aspettava che avrei pubblicato un video a quest'ora Tocchiamo qua riprendi e facciamo qua una partita Allora il gioco in questo modo in 3D Dobbiamo prendere qua le armi penso Allora raccogli qua come si raccolgono qua le armi Su prendi qua prendi qua ah un'arma alla volta posso prendere Vabbè direi di usare questa allora Vediamo qua i nemichetti dove si trovano Allora andiamo a caccia di zombie Venite qua nemichetti dove vi trovate Qui c'è Oh mamma mia Spara spara Shotta 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 Mamma mia uno scheletro è venuto E qua un ragno gigante cos'è? Il ragno di Granny si è evoluto Ma veramente ma dai Ma dai andiamo qua velocemente Allora fatemi sapere se vorreste vedere una serie su Structed Che è praticamente una piattaforma dove poter creare vari giochi E' pieno di giochi Ok no 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 mamma mia quanti mi stanno prendendo Shotta 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 Ehm Dove si trova? E questo cos'è? Un robot? Mamma mia e non finiscono più Scheletro Vattene via scheletro Mamma mia sto scheletro Ehi che roba Ma dai Tre ore per liberarmi di uno scheletro Ma qui è pieno di nemici Quanti nemici ci sono in questo gioco? Direi di prendere un'arma diversa va Una che magari possa sparare più velocemente In realtà non so che cosa io abbia preso Posso entrare dentro casa? Voilà si può entrare? No Non posso entrare Peccato no Allora Il pulsante con questo qua si corre Mamma mia Allora Shotta qua Shotta qua Via 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 Fai fuori Perfetto perfetto Bene bene Con un'altra arma ce l'ho fatta No E questo cos'è? Cos'è questo? Un'evoluzione tra Demogorgone E lucertola Che cos'era quello? E quel ragno Scusa Prima mi colpisce Poi se ne va via Ma dai ragnetto Ma dai Il ragno di Granny Sta tornando Il ragno evoluto Ecco No più sto ragno Sembra più La fusione tra un Demogorgone E il ragno Ok dai Vediamo qua che cosa troviamo Allora Qua è tutto distrutto Tutto distrutto Siamo in un villaggio distrutto Ma cos'è che devo fare di preciso? Non lo so Proviamo a vedere qua Che cosa troviamo Allora Mamma mia Mamma mia C'è una carota qua Però prima direi di far fuori a questo coso Ma cos'è? Un robot questo Un robot Eh sì Un robot Aiuto Ma chi mi ha sparato? Chi mi ha preso? Da dove è sbucato? No No Vabbè fortunatamente comunque avevo una vita Avevo una vita quindi sono ancora qui intero tutto quanto vivo Eh eh No no Cos'era ora? Qui mi colpiscono dal nulla Fatevi vivi Non nascondetevi se dovete colpirmi Fatevi vedere Allora qua non si può saltare Sì posso saltare Posso salire qua sulla scala? No Non si può entrare lì dentro Va bene Saltiamo qua Ok Vediamo che cosa troviamo da queste parti Amichetti Anzi Amichetti dove siete? Dove siete? Che qui c'è un bel pannino armato che mi sta cercando Allora Ah qua si può salire Perfetto Ok lì c'è uno scheletro Scheletro Fatti Prendere qua Ok headshot Ok Perfetto Perfetto Qua si può raccogliere No Non si può raccogliere No Un altro robot No 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 Aiuto aiuto Mamma mia Sti scheletri che sbucano dal nulla Quando si vuol dire Uno scheletro nell'armadio Prendi qua Prendi qua Prendi qua No 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 Scheletro Non ci provare scheletro Non ci provare Ti ho detto Non riesce a colpermi perché sta mirando al mulino Prendi qua Ok perfetto Oh mamma mia Quanta roba c'è Quanti scheletri Headshot Vai 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 perfetto Perfetto Un altro scheletro Oh no 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 E' un po' Quello da dove è sbucato Quel robot No Sono stato fatto fuori Partita persa No Peccato Peccato Proprio ora che ci stavo Telecamera Robert E cosa dovevo fare Tutti quanti Tutti quanti addosso a me Veramente Ricomincia Va bene dai Ultima partita Sto giro Sappiamo cosa dobbiamo fare Ok Rispondi qua Al telefono Forse ho capito Cosa che mi ha preso Forse ho capito Qui ci sono le mine Devo fare attenzione A queste mine Eppure queste Mi sono andate a mettere No Allora Vediamo qua Prendiamo subito qua La vita Perfetto Shotta qua Prendi qua Prendi qua Robot Perfetto Ok Qui intorno c'è qualcun altro Non c'è nessuno Vai 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 Ok Facciamo soltanto attenzione Non vorrei mai farmi colpire Da uno di questi nemichetti Ok Salta qua Salta 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 bene Beh perché non mi salta di qua E salta bene Insomma No Aiuto 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 Spara 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 No Mi ha preso subito Mi ha preso subito Ce la farò Farò una partita tranquillamente E Allora Fai fuori sto coso Tre ore Insomma Quanti proiettili Si devo dire però una cosa Ci sono forse un po' troppi nemici In questa mappa Ad essere sincero Ce ne sono fin troppi Allora Prendiamo qua Non so cos'è uno scudo Perfetto E mamma mia Scheletro Lasciami stare Scheletro Lasciami stare Ci manchi soltanto più te Eppure il ragno qua Il ragno demogorgore Spara Perché non shot Cioè si mette lì a ricaricare l'arma E non spara E non spara Ma dai Vediamo quest'arma Vediamo quest'arma Se fa più danno Questo fa 12 Ah vabbè Uguale Fanno lo stesso danno Va bene Andiamo qua Prendiamo altro scudo Magari ci può servire Lì c'è una carota Ma c'è anche uno scheletro di là Via 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 Colpisci colpisci Perfetto Un altro scheletro Ok Bene 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 Faccio soltanto attenzione Aiuto Cos'è che mi sta colpendo Mamma mia No 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 Aiuto aiuto Quanti scheletri che ci sono qua Aiuto No Fai fuori sto scheletro E dai insomma Su Quanti scheletri Tutti addosso a me Tutti quanti contro di me Allora Qui da queste parti C'è questo robot Che facciamo subito fuori E c'è pure una carotina Ok Prendi qua Spara Shotta 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 Vai Perfetto Qui c'è un altro ragnetto Nascosto lì dietro Opla E c'è anche qua Il robot Prendi 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 Perfetto Fatto fuori Prendiamo qua la carotina Carotina presa Prendiamo anche qua Questi cosi verdi Faccio soltanto attenzione A non prendere le mine Ok Aiuto Eh ma ti nascondono Sti cosi Sono nascosti Bene Perfetto Qui non c'è niente Nessuna carota No c'è una carota Bene 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 Prendi qua Shotta 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 Voila Ce l'abbiamo fatta Un'altra carotina Ok eccolo là No Oh mamma mia Hanno sparato soltanto uno E quell'altro da dove sbuca Oh mamma mia Facciamo solo attenzione Tanta 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 attenzione Carota presa Perfetto E cos'è quel coso E cos'è quel coso E' un nemico Si è un nemico Shotta 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 Vai Che bello Ok qua c'è il punto Cos'è che devo fare qua Devi depositare Sette carote qua E qua invece Cos'è che devo fare Quando trovi le sette carote Portamene qua Eh non ho preso le sette misa Ho perso pure il conteggio Shotta Prendi qua Scheletrino Perfetto Ora andiamo qua Colpiamo quest'uomo qua Più che uomo Sto robot qua Mamma mia Ok Pian piano Li stiamo facendo tutti quanti fuori Perfetto Fatto fuori No Aiuto Aiuto No 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 Scheletrino Oh mamma mia Sti scheletri qua No 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 Aiuto Aiuto Lasciatemi stare Sti scheletri sono fastidiosi Ovunque Sia su minecraft Sia anche negli altri giochi Allora Qui c'è qualcos'altro Si c'è un coso C'è una carota Però c'è anche un robot Due carote addirittura Prendi qua Una Solo che ecco Ci vorrebbe un conteggio Per le carote Perché ad esempio Eh non so ora Che numero sono arrivato Se l'ho già preso tutte e sette Oppure no C'è un robot qua Prendi prendi qua Va bene Aiuto No La mina Ho preso la mina Aiuto 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 No 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 Allora Vediamo se ho già preso Tutte e quante le carote Carri 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 Veloce Ok Andiamo qua Si Prese tutte le carote Via 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 Scappiamo Scappiamo No c'è solo sto zombie qua Lasciami stare zombie Lasciami stare Qua come faccio tu No Mi sono incastrato Ehm Come mi ci sono ridotto In questa situazione Mi sa che mi sono bloccato qua Allora No aiuto No zombie Lasciami stare No E niente Mi sono bloccato qua Non riesco ad uscire Forse Forse ce la sto facendo Perfetto Perfetto Vai 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 Dai 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 Che ce la fai Ora vai Avanti Ok Va bene dai E niente Mi sa che Proseguirà pure il terzo capitolo Va bene dai Direi di fare una cosa Direi di finire con questo video Fatemi sapere cosa ne pensate E niente Fatemi sapere se vorreste vedere Un altro video fatto su struct Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Condividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Vi ci vediamo in un prossimo video E come sempre Vi auguro una buona giornata Una buona serata E una buonanotte Ciao a tutti